È bello ritornare nei posti dove si è già stati. Torniamo oggi nella borgata marinara di Vergine Maria, un posto a noi molto caro, abbiamo fatto delle belle vaccinazioni l'estate scorsa, stiamo tornando per le terze dosi, troviamo lo stesso entusiasmo e ogni volta siamo sempre più convinti che la vaccinazione di prossimità è la soluzione. Noi non possiamo smettere di fare vaccinazioni di prossimità perché al di là dell'attività che abbiamo dell'ABAT, dell'attività delle persone che vengono nei nostri posti a farsi vaccinare, c'è il fascino della vaccinazione di prossimità, ha un significato importantissimo perché è un significato di condivisione, è un significato di spiegazione dove il vaccino non viene soltanto somministrato ma viene spiegato. Tutto questo serve a creare una cultura del vaccino che deve essere fondamentale per adesso e per le generazioni future. Grazie a tutti.